Non si tratta di un dispositivo fancy come il Surface Laptop o il MacBook Pro, perciò a molti non piacerà. La linea ThinkPad si è da sempre contraddistinta per durevolezza, praticità ed espandibilità, che riescono a non mancare anche su questo dispositivo soltanto un paio di millimetri più spesso e notevolmente più leggero del mio MacBook Pro 15 pollici. Il target di questa tipologia di computer sono da sempre i businessmen, sempre in viaggio e ancora di più gli sviluppatori. Perché? Vi starete chiedendo. La scocca rinforzata in fibra di carbonio è leggera e resistente. SSD e RAM non sono saldati e possono essere espansi con relativa facilità. Sono presenti porta Ethernet, lettore smart card e slot per la SIM card. Lo schermo opaco antiriflesso da 14 pollici è ideale per lavorare in condizioni avverse, oltretutto è anche reclinabile fino a 180 gradi, facilitando la pulizia con un pannetto, l'uso sulle ginocchia e la condivisione di contenuti intorno a un tavolo, per esempio. La webcam si trova tra i due utilizzabilissimi microfoni stereo ed è oscurabile meccanicamente, diciamo. La tastiera ha una corsa super confortevole per lunghe sessioni di scrittura e pensate che nel suo fratello maggiore, la variante senza S, possiamo letteralmente versare un bicchiere d'acqua sulla tastiera per vederla colare dagli appositi fori sul fondo del case. Senza danni alla scheda madre, naturalmente. Ogni dettaglio, ogni finitura di questo oggettino ci suggerisce che non si tratta di un semplice laptop, ma di uno strumento di lavoro. Ma con Linux? La serie ThinkPad è storicamente tra le più Linux-friendly e questo modello non fa eccezione. Funziona tutto, ma proprio tutto, out of the box senza particolari configurazioni, eccetto il lettore di impronte digitali. L'autonomia sulla batteria è ottima in Linux. Ho riscontrato un consumo medio del 10% all'ora, con lo schermo intorno al 20% e un uso normale, diciamo, senza operazioni particolarmente CPU intensive. Quindi, in battuta finale, a chi raccomanderei queste macchine? Con un prezzo di partenza oltre i 900€ per la configurazione base, non è un portatile per tutti. E come avrete capito, si va a pagare per tutta una serie di feature interessanti per la fascia business, ma magari non per noi. La buona notizia è che questi laptop invecchiano molto lentamente e generalmente si trovano usati a prezzi ridicoli. Nel senso che è facile reperire un'unità usata in ottime condizioni a un ottimo prezzo. Quindi la risposta è semplice. Se devi stare in un budget e vuoi un'ottima macchina Linux, cerca un usato. Se ti serve un portatile per lavoro, il latest and greatest nuovo ultimo modello è un'opzione validissima.